I presidi di sicurezza in piazza Libertà coinvolgono tanto le forze dell'ordine statali quanto quelle comunali. La polizia locale passa quotidianamente in loco per verificare il livello di bivacco, sporcizie e decoro urbano, oltre a salvaguardare a vista le operazioni di pulizia, divenute ormai una costante in quella piazza. L'assessore comunale alla sicurezza Caterina De Gavardo aggiunge che dal tavolo ordine e sicurezza degli scorsi giorni si è aggiunto un elemento che porta gli agenti della municipale a entrare nella piazza ed essere parte attiva per la sua dignità e non solo uno stazionamento di cintura come è accaduto spesso fino ad oggi. Il presidio finora era sugli angoli esterni di piazza Libertà. Nel corso di una delle ultime riunioni del comitato ordine e sicurezza della scorsa settimana abbiamo valutato opportuno farlo in qualche modo stazionare anche più internamente. C'è di più perché dal medesimo incontro in prefettura emerge che i pullman dedicati ai trasferimenti dei migranti spesso sono disertati dagli stessi interessati per una precisa scelta di voler rimanere a Trieste minando la redistribuzione che serve a sgravare la città quando i numeri diventano insostenibili. Ci sono più o meno, sono stati trasferiti dall'inizio dell'anno circa 1.200-1.300 persone già 150 persone al mese all'incirca, però come ho detto il prefetto la scorsa settimana ci ha idotti sul fatto che qualche volta capita che i pullman siano vuoti cioè che queste persone che hanno delle destinazioni diverse dalla nostra città poi alla fine non vogliano spostarsi da qua e preferiscano essere irregolari qua piuttosto che aderire a un sistema di accoglienza in un'altra città e questo è un problema serio e grave e che va assolutamente risolto.